Il Papa in questa esortazione apostolica richiama quelli che sono, e lo dice lui espressamente, i criteri che ha visto nella prima Chiesa, quindi la Chiesa di Gerusalemme, la non emarginazione e l'integrazione. Ora, alla luce di questo, egli va incontro a coloro che hanno subito, ad esempio, un divorzio e quindi hanno già una sofferenza in animo e se questi vaglieranno con i pastori, appunto, caso per caso, ecco, riceveranno, come dice lui, il sacramento dell'Eucarestia, che è il sacramento che aiuta nelle difficoltà. Quindi non è uno sdoganamento a priori, ma caso per caso, proprio perché la fede deve essere orientata in una scelta libera, pensosa, anche in difficoltà. Realizziamo questo nell'anno santo della misericordia, cioè troviamo questa attenzione di un cuore paterno e materno di Dio nei confronti di chi ha sbagliato e giustamente dice, ecco, non è condannato per sempre in statuvie, ecco, ma una persona può ovviamente ricredersi e ricominciare un percorso con l'aiuto della grazia di Dio, purché appunto la persona sia anche consapevole di aver sbagliato. Ecco, qui c'è la parabola del figlio al prodigo che fa appunto da maestra.